gentili telespettatori buona giornata e beh salvini si fa sempre per riconoscere che vi devo dire a volte star zitti è la cosa migliore non bisogna parlare sempre 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 vince chi parla poco chi parla troppo poi si tira la zappa sui piedi perché perché salvini continua 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 costa storia rimaniamo al buio le famiglie al freddo gli italiani al freddo senza luce e continua le sanzioni ci tornano indietro sì salvini hai ragione lo sanno tutti al mondo tutti lo sanno salvini ma tutti gli stati tutti i capi di stato hanno detto facciamo le restrizioni non si può ragionare così capitano perché un giorno può toccare a noi e gli altri pensano al gas no 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 e infatti da persona matura draghi gli risponde per le rime perché draghi dice beh c'è qualcuno che continua costa storia però basta e così dice draghi lo so dice qualcuno continua a parlare dell'impatto delle sanzioni sull'economia italiana lui dice lo so ma noi ci orienteremo come gli altri paesi noi non ci tiriamo indietro caro salvini per fortuna che non stai governando tu ma che figura ci avresti fatto fare sulle sanzioni tutti i paesi europei hanno detto di sì e tu sei l'unico che continui con sta cosa e ma poi il gas e come lo paghiamo col baratto e ma poi ci hanno freddo gli italiani gli togli il gas e gli togli la luce rischiamo il blackout salvini ci sono momenti nella vita dove bisogna essere adulti c'è un momento quando l'interesse personale o del proprio popolo bisogna leggermente spostarlo perché ci sono cose superiori ci sono cose che potrebbero diventare di tutti allora se c'è da mettere le sanzioni a uno stato le si mettono ma le conseguenze le conseguenze ce l'avranno tutti e ma soprattutto l'italia la germania allora il gas anche se viene bloccato il codice e i codici swift per fare i pagamenti i pagamenti caro salvini te l'ho detto ieri non si possono non si fanno solo tramite il swift si possono fare in altri modi non è solo quello quindi se si blocca il codice swift il gas si può continuare a pagare in altri modi in altri modi in altri modi salvini altri modi mi spiace che nessuno te lo abbia detto come un partito così grande non ha un responsabile economico della lega che sappia di economia perché se fosse così o sei tu che non chiedi consigli a nessuno perché tu sai tutto tu sai tutto ma quel voler sapere tutto non si può sapere tutto esistono apposta i consiglieri il consigliere non è perché uno è scemo e ha bisogno di essere consigliere guarda quello è scemo c'ha lì dieci consiglieri perché non è capace a far niente è ovvio che se uno non sa di sanità deve avere un consigliere del che si occupa di sanità se uno d'economia non l'ha mai studiata non è la sua materia devi avere delle persone che te la spiegano se tu parli di di pil dici ma che cos'è pil quello che diceva eccettola qualunque più pilu per tutti no il pil è un'altra cosa ma non ti puoi informare solo così su google perché quelle poi sono conoscenze superficiali e poi si fanno delle brutte figure e allora mi chiedo io caro salvini meno male che non sei stato tu capo del governo a questo punto meno male che mattarella ha detto ceco viddi vi mando draghi ma voi immaginatevi con salvini al governo che cosa sarebbe successo cosa ne avrebbe combinate e con questa cosa di oggi che cosa magari saremmo stati l'unico paese a dire no no le restrizioni no perché e noi ci dobbiamo ci abbiamo gli italiani al freddo se manca il gas ma immaginatevi che che figura avremmo fatto con un salvini capo del governo oggi in questa settimana quello che c'aveva la fotografia qua dietro nelle foto con i santini mamma mia mamma mia per fortuna e guardate che io sono un giornalista di area di area ideologica di centrodestra arrivare a dire meno male che salvini non ha governato vuol dire ce ne vuole ce ne vuole ce ne vuole meno male che draghi c'è che non c'è salvini al suo posto meno male infatti draghi dice lo so proprio indirizzato a salvini lo so ma noi ci orienteremo come gli altri paesi come dire cosa facciamo diciamo no no noi non interessa perché noi dobbiamo pagare il gas mica che poi quello là ci spegne il rubinetto del gas che facciamo come facciamo la pagli spaghetti la sera salvini ci sono momenti della vita in cui bisogna ragionare anche in maniera altruistica bisogna essere altruisti non solo postare i video per fare per fare come si dice per fare impatto sull'opinione pubblica come i video che hai postato qualche ora fa e non facciamo propaganda anche su queste cose per favore non facciamo populismo anche su queste cose quindi draghi dice ma lo so proprio indirizzato lo so ma noi siamo in linea con gli alleati con i paesi europei lo so lo so che le sanzioni si ritorcono anche contro di noi e a tutti gli altri paesi che le stanno facendo praticamente quasi tutto il mondo caro salvini siediti e rifletti va beh rifletti insomma insomma non c'è da avere dubbi sulla postura di mario draghi del suo governo nei confronti di quello che sta succedendo pertanto questa è una stoccata diretta a matteo salvini su questo l'unico che continua a insistere tutti i giorni rimaniamo al freddo e cosa facciamo il baratto ma smettila per favore smettila guardate veramente io perdo la pazienza quando sento queste cose qua quando sento quella voce al telegiornale che parla mi mi altero mi altero perché veramente sono arrivato al limite al limite a sentire certe cretinerie di carattere cubitale ecco pertanto grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video